Dututututututututututututututu Ramp 750 Framp 750 Favolo anziano! Io questo film non lo farò mai! Io voglio fare un film autoriale! Ti ho trovato il protagonista... io ti voglio... devedonizzare! Chi è questo? Favolo anziano? Perché sei così bea? Cioè guardate... Perché me parli in vera ? E' Romana Rutter, cazzo. Un anziano commerciante è stato taglieggiato da un gruppo di criminali della mala di ostia Della mala di ostia? Oddio, signor Carlo... Guardi! Ma m'hanno decapitato! Voglio fare i nomi e i cognomi! E cala! Siete fidanzati? No! Siamo amici! Bugiardo! Bam! Famolo strano! Come dicevi dei nini in Viaggi de Nostra, sì! Piacere io, no? Piacere Jessica? Tutte le strade portano a perdone, eh? Dov'è che ci siamo visti? Ma, Carlo, sono Fabio! Fabio Traversa! Fabris! Compagni da scuola! Ho visto a tuoi film? Fai ridere! Pure io ho visto i tuoi gol! Sei sempre il top! Guarda allo stacchio il top! No, scusa Giuliana, ma quello che è? Ma perché? In te piace? È fuori luogo! Nella casa originaria c'era un quadro della Madonna! Siamo rubati i vestiti qua! Come torniamo a Roma? Ma perché? Appari sempre nei miei incubi a rompere i coglioni te! Ma che succede? Che succede? Questo t'ha fatto male! Quindi è uno così! Non mi hai rotto il cazzo! Aio! Ma che sei scemo! Abbiamo finito il carburante! Sto mettendo vuoto! Ti avevo dato un tranquillante! L'hai preso? Se l'ho presi il treno ma l'ho fatto un cazzo! Fermi! Andrea! No! No! Venite qui! Che ambulanza che è 130? 112! 115! 119! 119 in autobus! Io ti conosco, desecarlo perdone! 7 Oh, when the city will rise alone... Today... Che state facendo? Che delusione! Sì, sì, oh ne.